Perché devo avere una figlia catastrofica in questa maniera? Adesso mangi quello e ti lo fai bastare, così impari. Elena ci parla del suo figlio più piccolo, Davide, che è nato prematuro. È figlio dell'Austria e io ricordo che ho capito di aspettarlo quando ero già ritornata giù a Trieste. Con lui è stato l'unico figlio con cui non ho dovuto fare il test. Perché è stato l'unico figlio in cui ho capito che lo aspettavo senza aver bisogno della conferma. Di solito io sono di quelle che arriva con l'ultimo treno. Prima di capire di essere incinta ci metto un attimo. Con lui no. Mi ricordo che ho lasciato una lettera a mio marito e sono uscita. E quando sono rientrata, cosa che mi ha detto? Congratulazioni, felicitazioni, complimenti. Non mi ricordo, solo con una cosa del genere. Perché io non sapevo se ridere o come. Ma un giorno mi è venuto lì, che poi è strano che mio marito faccia questi discorsi, allora proprio per quello abbiamo detto va bene. È venuto lì, mi ha guardato, mi fa, sai che questo bambino qua? Io non so perché, ma l'ho sempre sognato come Davide. Io l'ho guardato e gli dico, per me va bene. Davide è un bambolone. È dolce, allegro, buono, piange poco, sempre col sorriso, tu lo guardi, ti ride. E' una cosa che, infatti ho detto, per avere un figlio così ho dovuto farne sette. Perché tutti gli altri invece sono più tosti, sono di carattere più sanguigno, no? Lui invece è un pacciocone. Allora, Didi piace molto, così di primo acchito, a Ruggero. Perché è quello nei suoi confronti più disponibile. Mentre la Gaia lo vedo con Ruben, Ruggero con Davide è molto dolce. Cioè lui si trova, forse per gli opposti, che si attraggono come karate, un po' come Gaia e Ruben, no? La stessa cosa. È molto dolce nei suoi confronti. Beh, di Davide è il momento, l'episodio più particolare, sì, non è bellissimo. Nel senso il rimpianto di quando è nato. Perché quando è nato io non l'ho visto. L'ho visto che aveva 12 ore, io l'ho potuto tenere in braccio appena il terzo giorno. Perché comunque prima lo potevo toccare, era in incubatrice, però aveva le flebo, era legato alla flebo. Cioè potevo prenderlo solo quando sistemavano l'incubatrice e me lo davano in braccio. È una cosa che è avvenuta gradualmente. E io mi ricordo il giorno che l'ho preso in braccio, che appunto era già tre giorni di vita, cioè proprio prenderlo e tenerselo e ho pensato, sì, ma questa l'avrei dovuto fare quando è nato, non dopo. Ecco, questa è la cosa che mi ricordo di più, con un po' di rimpianto, in effetti. Poi dopo, vabbè, le coccole se le prese con l'avanzo, ma insomma, per il momento sono legata a questo ricordo. Cioè la differenza con gli altri figli, no? Che tutti quanti quando nascono hanno l'abbraccio della mamma e invece lui non l'ha avuto. E mi è mancato, mi è mancato e ho sempre avuto il rimpianto e io l'ho fatto mancare. Abbraccio a mamma. Bella la mia peste bubonica. Mamma, che è coca? Io? No, la coca cola no, basta. La mia è coca. La mia ha bevuto la coca? Ma no, adesso basta, coca cola. Sì, la streghetta, no, coca cola. Aspetta lì, abbi pazienza un attimo. No, il ghiacciolo no, amore, non è il caso adesso. E no.